Love's in the air. Trama puntate. Mercoledì 11 agosto 2021. Aidan decide di invitare Eda a fare colazione da lei, dato che l'è grata per essere tornata ad uscire senza problemi. Eda incontra Serkan mentre si reca dalla mamma di lui e gli dice che è stata proprio la signora a contattarla. A quel punto Bolat va su tutte le furie contro la madre, accusandola di perseguitare Eda nonostante sia stato costretto proprio da lei a lasciarla. Intanto la colazione con la Hildiz ha luogo e Aidan decide di aprire il suo cuore con lei. Grata per ciò che ha fatto, Aidan racconta Eda che la sua agorafobia è iniziata a seguito di una forte depressione scaturita dalla dipartita di Alpin, il suo primo genito. Dopo la morte del piccolo, lei e Alptekin hanno deciso di mandare Serkan in collegio. La cosa ha segnato irrimediabilmente il carattere di Bolat rendendolo sfiduciato verso le persone e anche scontroso. Presa dalla commozione nel mezzo del discorso, Aidan dice che Serkan almeno sarebbe stato felice al suo fianco ed è ancora innamorato di lei, ma purtroppo è stato costretto a lasciarla per questioni che riguardano il suo passato. Spaventata per l'errore commesso, Aidan cambia immediatamente discorso, certa che Eda non abbia fatto caso a quelle parole. La Hildiz invece continua a ripensarci e pensa che possa esserci dietro qualcosa. Grazie a tutti!